lavoro in corso al cavo roggione in zona martinetta a lodi per iniziativa dell'aipo l'agenzia interregionale per il bacino del po si sta procedendo la messa in sicurezza del corso d'acqua che si scarica nell'adda a monte del ponte ottocentesco della città l'intervento comporta l'abbattimento di una lunga serie di piante d'alto fusto che col tempo erano cresciute sulle sponde del cavo ora giacciono a fianco del corso d'acqua in attesa di essere riutilizzate al loro posto si sta provvedendo a sistemare appositi massi in granito in modo da proteggere più efficacemente le sponde del cavo dall'erosione dell'acqua corrente l'intero intervento nel tratto preso in esame comporterà una spesa da parte di aipo di poco più di 100.000 euro i lavori sono già a buon punto e dovrebbero concludersi nel giro di poche settimane contribuendo a rendere più sicuro da eventuali esondazioni il reticolo di canali a rocce che confluiscono nell'adda grazie a tutti